3, 2, 1... Azione! Bene, oggi una cosa particolare perché ci è arrivato questo pennarello Che ci hanno detto che è un pennarello stranissimo Sì, è un pennarello magico Guarda, poi ti voglio far vedere io so quanto so bravo a disegnare Eh, immagino, anche non ne lo sarai Eh, certo Come tutte le cose, mi so... Continua con il tiloco, eh Allora, facciamo una cosa Io adesso ti faccio vedere quello che succederà perché farò un disegno e mi hanno detto che questo disegno succederà qualcosa di molto particolare Che succederai? Dai, mo lo vedi Allora, facciamo una cosa Tu adesso ti metti là e guardi, ok? Ok Allora, mi raccomando Prima però di cominciare a fare il disegno devo dire una cosa Che cosa? Ah, sì, lo dico io Vai Iscrivetevi al canale Se questo video ti piace Condividilo, metti like Esatto Allora, tu adesso Durante la sigla andrai là sotto e mi darai dei consigli su come sta venendo questo disegno Ok, allora Sigla! Pronti? Eh, Nicola, io ti vedo eh Sì, lo so come vedi Stai lì Allora, come te istruzioni prendo il pennarello prendo la lavagna cancellabile, ok? Di quelle che qui posso che posso poi cancellare e comincio a disegnare Ok, vediamo eh Sta zitta, un attimo fammi concentrare Allora, comincio disegnando due O Chi? Io? Come chi? Io Allora, disegno due O Chi? Io disegno Chi disegna? Io disegno due Ah, due O Chi? Eh, Nicola ti sei indesendito? Sta zitta, per favore un attimo, no? Sono nervoso Non è il mio, no? È un conto Ecco, ne faccio uno a destra e uno a sinistra Nicola ti voglio chiamare Giotto Sta zitta Non mi prende in giro Guarda che perfezione So bravo In mezzo agli occhi faccio le Poo, le Poo, le Poo Le cucchille Esatto Uno a destra e uno a sinistra E a sinistra Chissà dove Ecco Sotto gli occhi faccio il Il naso Che c'è sta? Fatto così Ecco Sotto il naso E dove? La bocca Certo, fatta così Guarda Tac E mi hanno detto Tac, sì, tac, tac Che sei Che sei, che sei Mucciaccia Allora Fatta la bocca Faccio le O Le orecchie Esatto Una così E una così Nicola Che ti stai Falando di tratto? Sta zitta No, non è Ecco Sopra faccio La testa Ecco Vediamo Come si fa Sta testa Nicola Eh È diventato un rating Ma sei uguale No, sta zitta Non è vero Io faccio Le Gou, le Gou, le Gou E quanto Che ci saranno Ecco L'orecchia Magari De perfeziono Così Nicola Eh È anche storto come te Da zitta Non è vero Che è storto Ecco Ma l'ho detto Che è bello Però Ti piace Sono bravo a disegnare Allora Mi hanno detto Che questo penne Nicola Eh Nicola Guarda Corri Nicola Nicola Guarda Guarda Il disegno Che ha fatto Hai visto Che è successo Che è successo No Allora Dicevo Ma l'ho detto Che questo è un penne Non è particolare Nicola Nicola Corri Guarda Che cosa Non capisco Nicola Nicola È una cosa Inquedante Nicola Sì Allora Dicevo Ma l'ho detto Che questo Nicola Ah Se muove E te lo sto Dì Tranquilla Però Cioè Tranquilli È finto È comunque Un disegno Guarda Se io faccio così Non è che lui Segue il pennarello Perché Nicola Eh Lo segue Lo segue Nicola Cancellalo No no Che cancello Guarda Una cosa straordinaria Guarda Segue io Ma sì È un meccanismo Finto Tranquilli Non è Che non è È assolutamente Un disegno È assolutamente Finzione Eh già Eh già L'ha detto anche lui Ah Nicola Eh L'ha detto lui Eh L'ho sentito Eh L'ho detto io Isotta Nicola Carla Sì parla Eh sì 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 sono qui Aspetta Aspetta Che cosa vuoi fare tu Ucciderti E prendere il tuo posto No no Mettiamo via Nicola Nicola dove lo metti Ecco Ehi Grandi No no Tu rimani là Isotta Hai visto che è successo Ma dico Grandi Ne corri Sei che rigolosa E sei anche brutto Somiglia a Nicola Sanzita Non è vero Mannaggia Non mi somiglia per niente Ma comunque non ne so niente Che niente Va bene Ehi Sanzito Dopo te cancello Sì sì Cancello che fa schifo Quasi quasi cancello anche a te No Tu sei stupido Bene Allora Fatela finita Bene Se questo video ti è piaciuto Metti like Condividi Ecco E giro a tutti i giorni Iscriviti al canale È importantissimo Esatto Se non ti è piaciuto Fatela fare i due Da Nicola Pesaresi Dai sotto Ciao a tutti E al prossimo video Ciao Ciao